E qui abbiamo la principessa che si sta facendo bella, la morina, e qua c'è il fratellino di lato, ecco qua, e qua ci sono gli altri due fratellini che non scappano, sempre il gruppo è qui, vero? E il gruppetto è qui, aspettate che fin qua trovate sempre pure le stesse cose fanno, ecco qua, ma lo sapete che avete trovato adozione? E puffetta, una puffetta è lei, una puffetta, puffetta una e puffettino, guarda già anche se ho quattro mesi a me mi sono, già mi si vedono, e a noi stanno uscendo pure a voi, sì sì, voi ce l'avete neri, roghi? Magari si vedono un poco di meno, no no, roghi proprio si vedono per niente, e tu invece la patatina come ce l'hai tu? Bella, vieni qua, puffettina bella, puffettina, eh, puffettina bella lei, puffettina, tutti belli sono, qua c'è Conan, Lo sapete che siete stati adottati in coppia? Eh? Ci credete a questa cosa? Eh? Che ce l'abbiamo fatta, un'adozione di coppia a farla, ma perché? Perché abbiamo Enrica che è bravissima, E solo un angelo vi poteva richiedere in coppia, eh? Perché la gente non le vuole fare le coppie, vuole spezzare l'amore che c'è fra i fratellini, eh? Lo vuole sempre spezzare, invece loro si vogliono tanto bene, questo è il loro modo di dimostrarsi che si vogliono bene, eh? E' vero, eh? Ecco qua, ecco qua che ti faccio vedere già come noi giochiamo a fare la lotta cinese, ecco qui, e io comando perché io sono il maschio di casa, e me l'abbraccio tutta, eh, 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 eh Ti spaventi che faccio il respiro del cane, ti spaventi che faccio il respiro del cane, guarda lei è Doris che ha due anni, lui quant'è? E lei è una pallina puffettosa, tutta tonda, bellissima, è vero che sei tutta tonda bellissima, invece Rambo è più, un pochettino più lungo, lei è tutta tonda, vero? Dov'è Rocky? Ora l'ho perso, eccolo qua Rocky, rochino, rochino, bello anche rochino, è vero che sei bello rochino, rochino, e Conan, e qua c'è Tiago, ma guarda tu che bellezza pure Tiago, che sei fatto? E qua, questa bellezza di Conan ha trovato casa veramente, Conan con la sua splendida sorellina Nikita, davvero, hai trovato casa amore?